Sì? 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 Da quanto siamo amici? Direi... ...da sempre. Ma... ...da quanto tempo? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Credevo fossimo buoni amici. Lo siamo. È che è passato così tanto. Non riesco a ricordare. Billy? Sì? Non dimenticarti mai di me. D'accordo? Qualunque cosa accada. Mai, Ollie. Promesso? Ollie!